ciao ciao a tutti grazie per essere qui vi invito a iscrivervi al mio canale su questo canale ci saranno sempre video nuovi video sullo spray paint art io vi invito calorosamente a iscrivervi ciao a tutti allora workshop a fondi cominciato primo round arminio piccola adriano qui stiamo e stiamo qui valutando i diversi livelli dei partecipanti quindi tutti all'opera facciamo delle piramidi con qualche pianeta come prima prova qui ci troviamo in questo posto fantastico in riva al mare una bella giornata di sole e vai pianeta si mette su si lavora velocemente il tempo scorre velocemente e come potete apprezzare vedete questi sono degli spezzoni il tempo poi il clima è cambiato quindi ci siamo spostati in un'altra zona più in basso con una copertura maggiore un tetto più grande qui ancora molto motivati vediamo erminio a lavoro creando uno spray paint possiamo apprezzare pianeta la velocità la voglia di dipingere questo è il pianeta di molto bello questo pianeta si può apprezzare apprezziamo i dettagli le tonalità dei colori fantastici opera di Nicolò ciao Nicolò e adesso ancora andiamo avanti e qui c'è il grande Adriano anche lui e passiamo ad erminio erminio che ci fa un bel fire fire forza ragazzi si lavora a velocità supersonica e c'è una voglia matta di dipingere e siamo eccitati motivati facciamo dei paint uno dietro l'altro praticamente non stop qui in questa parte invece vediamo l'abbiamo mandato il video un poco più abbastanza accelerato tipo film di Charlie Chaplin e vediamo Adriano all'opera il paint in questione è Masai quindi un paint etno africano vediamo come Adriano mette su i colori scegli i suoi colori preferiti e vai comincia a fare il corpo dei Masai quindi sempre a velocità supersonica che bisogna anche ricordare che Adriano ha avuto un coraggio da leone perché ha preso l'aereo per venire al workshop ha preso l'aereo dopo circa 20 anni che non lo prendeva e allora per me è stata una grande soddisfazione qui sempre più accelerato Erminio anche lui e Nicolo ma sai bellissimi questi paint e qui come potete apprezzare abbiamo fatto molti motivi diversi come anche le città piramidi abbiamo abbiamo creato molti stencil come dalle immagini vedete ce ne sono svariati Bob Marley Leone Pegasus Lupo Teschio Colosseo e così tanti tanti altri qui questo è il paint che io avevo realizzato come esempio sui Masai possiamo apprezzare i dettagli la struttura e da questa parte vediamo Adriano ancora al lavoro con il suo paint del Masai materiali spatole di tutti i tipi ci siamo veramente potuti potuti divertire e ancora anche Erminio anche Erminio che terminava il suo Masai e adesso qui potete apprezzare i dettagli di una parte dei paint che abbiamo realizzato in questi due fantastici giorni di workshop Colosseo occhio piramidi città futuristiche nello spazio guardate i dettagli ancora New York con il ponte barche mare abbiamo realizzato dei painting bianco e nero con solo due colori e ancora piramidi e barche pianeti città di diverse forme come questa io voglio veramente invitarvi a raggiungerci nel nostro gruppo Whatsapp che si chiama Planet Spray Art troverete il link nella descrizione o nei commenti su youtube o facebook ancora guardate questo paint bellissimo abbiamo svariato con diverse forme colori spingere spingere la fantasia pianeti montagne cascate alberi questo mondo surrealistico surrealistico io vi invito a raggiungerci qui anche voi nel prossimo workshop in questo posto fantastico di cui abbiamo avuto l'onore e la possibilità di poter sfruttare in questi due giorni meravigliosi ancora erminio con un altro ma sai qui guardate è spettacolare io sono molto contento e vi ringrazio tutti voi perché questo workshop ci ha dato la possibilità di conoscerci di diventare amici penso per la vita e questa è stata per me e penso per noi tutti una grande una grande fortuna sentirci così vicini e uniti ciao ragazzi ciao alla prossima ciao 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 di nuovo ti ringrazio per aver guardato questo video spero che ti sia piaciuto e ti invito a iscriverti al canale fare click alla campanellina così da non perdere i prossimi video che saranno che saranno messi su un abbraccio a tutti voi calorosamente ragazzi e ragazzi